Adagiata in una splendida vallata, la Valle di Diano, arroccata su di un colle, e Padula, antico borgo medievale, fondata tra il IX e il X secolo. Orgoglio e vanto per la comunità, il simbolo d'incontro e scontro tra diverse culture, è la famosa Certosa di San Lorenzo. Fondata nel 1306 e dedicata alla Regola Certosina. Il visitatore potrà attraversare lunghi porticati e meravigliosi cortili interni. Importante è la chiesa di San Michele Arcangelo. È la chiesa di San Clemente, fondata nel 1200 e legata alla nobiltà locale. Vanno ricordate la chiesa bizantina di San Nicola, di forma rettangolare, edificata su una cripta, i cui affreschi risalgono alla fine del XIV secolo. È il convento di Sant'Agostino, oggi sede del municipio. La chiesa adiacente, sconsacrata, è oggi allestita con particolari e suggestivi angeli di legno e miniature sacre dei presepi. Padula, scrigno segreto di arte, storia e cultura.